segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma dall'altra parte di ellish line purtroppo che vogliamo dire la notizia della settimana è l'armocronista l'armocromista di ellish line cioè chi li cura la tinta dei vestiti rispetto al viso è una stortura dell'informazione è un errore di ellish line che cos'è ma ellie ancora probabilmente diciamo mi spiace anche molto insomma è solo l'inizio del massacro che un che un leader subisce quando si espone in politica chiaramente si è data attenzione su questo dettaglio inutile per togliere attenzione a tutto il resto cioè si dà luce a un commento detto in qualche secondo per facilmente impedire che l'attenzione vada su altro il tema di ellish line per esempio su de luca de luca visto non so ha visto fatto un video dove ha preso in giro come non c'è il suo storico il nome no cacchio lui ormai un comico chiaramente non nel senso che è un comico che ha piazzato i figli che comanda da satrapo che ellish line sta cercando di fermare che quando io sono stato invitato in un festival diretto da scurati a ravello ha cancellato la mia presenza ma già se l'aveste fatto se l'aveste fatto per lo scuoli manifestazioni questo questo è de luca il satrapo campano e quindi cosa succede lui a si attacca questo questa boutade per evitare per evitare che possono invece emergere i temi per cui viene fermato lui la gestione familista la gestione affaristica la gestione insomma drammatica che ha fatto in campania è sempre questo il gioco è molto facile perché i social arrivano no in maniera superficiale alle cose ma saghi